questo animale può sembrarvi un cussolo di lupo ma è una volpe sta mandandolo dalla mano di chi è della specie vulpes vulpes inoltre questo animale segue gli sentimenti umani per depredare galline capretti conigli pulcini o che quando il fattore dorme perché si dice a tutto come una volpe oppure vecchia volpe da rega dove mangiare lo fotti fumare